La sinistra europea ha scelto, è l'austriaco Walter Bayer, il candidato alla presidenza della Commissione Europea in vista delle elezioni di giugno. Attuale presidente del gruppo, proveniente dal partito comunista austriaco, Bayer non è mai stato un europarlamentare ed è praticamente sconosciuto alla politica europea. Bayer non figura in nessuna lista nazionale, quindi non si candiderà ad un seggio al Parlamento europeo. Competerà con candidati di consolidata posizione come l'attuale presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen o il socialista Nicolas Schmitt. Grazie a tutti.